Buongiorno, è tornato a Camperino, è il mio regalo di Natale a me stesso, peccato ovviamente che col clima che c'è oggi avrebbe fatto più comodo un'arca, però vabbè accontentiamoci, comunque non è finita, avrà bisogno di un carrozziere, c'è ancora tante. Detto questo, Facebook, l'avevamo già detto, addio alle immagini dei link nelle anteprime, che è una cosa che mi sorprende, voglio anche vedere se è retroattiva, mi incuriosisce tanto. Andamento degli aggiornamenti di Google anno per anno, cavolo, sono aumentati un sacco. Data Protection Officer negli e-commerce, quando serve e perché? Guida a Screaming Frog gratuita, questo penso che sia un argomento che va sempre ridetto. WhatsApp arriva la possibilità di riascoltare gli audio prima di mandarli, bellino. Il 26 dicembre del 1987 è nato il registro.it e è qui a Pisa, al CNR. Tool del Natural Language AI in Google Cloud, ci permette di fare un po' delle stime su come funzionano questi algoritmi, molto carino. Guida il posizionamento sui motori di ricerca dei mitici Stefano Di Carlo e Roberto Serra, quindi da vedere subito. Antitrust, multa da 11 milioni a 1 euro, media world, l'eruan merlain, come si dice, mon click, praticamente perché durante il lockdown, in particolar modo, hanno avuto delle pratiche non proprio corrette, tipo mentendo un po' sulle disponibilità, sulle realità date di consegna. Molto curioso, una lezione da imparare. Torno da posta al market, è tanto che stiamo iniziando a parlare e ci siamo arrivati. È tornato. Facebook Ads, cambiano gli obiettivi, da 11 a 6, se non mi sbaglio, insomma, cambia un po' questi aspetti da seguire. TikTok, test e reposto. Anche questo mi sembra abbastanza curioso. Questo è un esperimento bellissimo. Long Term Duplicating Imagine, praticamente un test, un esperimento molto interessante, l'avevamo già accennato, ma consiglio di tornare a approfondirlo su, insomma, immagini duplicate, come impattano nella SEO. Enel Conquista Money, che è una piattaforma diffusa sul territorio di pagamento. Questa cosa, insomma, potrebbe essere davvero un asso della macchina. L'hanno comprato tipo il 50% di azioni. Tutte le novità di LinkedIn nel 2021, che non sono certo poche, è cambiato un sacco. SEO e Link Building, quando e perché? È un post un po' provocatorio, a me piace tanto, secondo me merita una lettura. Campagne Smart Shopping. Un'interessante analisi sui vari tipi di click che possono generare. Li possiamo segmentare e non è un dettaglio, anche e soprattutto per andare a paragonare alle performance max, un bel approfondimento. Il lockdown delle api. Bellissimo, cavolo, non lo sapevo. Praticamente nelle api, cioè, sapevo, sappiamo, no, che da tanto tempo hanno un parassita che gli rompe assai le scatole. Bene, hanno in alto un lockdown. Hanno reagito come? Isolando e non facendo entrare, o almeno non facendo entrare in alcuni posti, soprattutto dove ci sono le darbe, le api infette. E cambiando le cure parentali per le non infette è veramente interessante, vi consiglio di leggerlo. Ci vediamo stasera alle 17 per gli auguri di Natale. Basta che mettete un commento, vi mandiamo il link a StreamYard per poter entrare, e così tutti possiamo entrare e farci gli auguri in diretta. Insomma, una diretta aperta a tutti. Grazie mille, se non ci rivediamo, tanti auguri. Ciao. Ciao e speriamo che smetta di piovere. Ciao.